Ciao ragazzi, bentornati sul canale e bentornati su World of Warships Oggi andiamo a vedere una partita con l'incrociatore giapponese di livello 10 Zao con la mimetica da 8000 dobloni Zadia Mimetica spaziale Come sempre, bandiere per quanto riguarda il combattimento Per cercare di avere un piccolo vantaggio Vediamo subito il matchmaking che propone 3 cacciador penieri e 2 portaerei Facciamo attenzione Un livello 10 e un livello 8 Poi via via tutte le altre navi Siamo respawnati sul settore di Charlie Vediamo un po' se riusciamo in qualche modo a sfondare questo settore Per poi avanzare dall'altra parte Abbiamo su questo lato il cacciador penieri giapponese La corazzata Montana Corazzata di livello 10 americana Subito arrivano i primi razzi della portaerei giapponese davvero molto pericolosi Soprattutto per il nostro cacciador penieri Vediamo che la squadra fondamentalmente sembrerebbe andare verso il settore di alfa E' molto importante qui il ruolo sia dei cacciador penieri sia delle portaerei I primi devono cercare di sopravvivere all'attacco dei secondi Vedremo quale delle due squadre riuscirà a far sì che i cacciador penieri sopravvivano Continuiamo ad avanzare Ci dobbiamo assolutamente allargare con la nostra bellissima Zao Veramente ragazzi io aprirei una parentesi enorme sulla mimetica spaziale della Zao Secondo me è la più bella dell'intero gioco Certo costa 8000 dobloni Però sinceramente siccome mi avevano dato la compensazione per quanto riguarda la mimetica della portaerei di Halloween Ho detto perché no sono 8000 che alla fine mi sono ritrovato così dal nulla E quindi ecco qui la mimetica Un'altra nave abbastanza interessante che vorrei sbloccare quanto prima E sicuramente la vedremo sul canale E' la Zuma L'incrociatore premium giapponese di livello 9 Andremo a vedere tra poco si spera uno scontro contro questo incrociatore Eccolo lì lo abbiamo praticamente a 17 km Come sempre il replay ci garantisce un po' di lag Però non ci posso fare nulla Vediamo abbiamo spatoli HE da circa 16-17 km Andiamo a fare 3.300 più 4.400 più incendio Fa davvero molto molto male Un totale di 8.900 Qui in chat ormai si parla del più e del meno Sinceramente non sto capendo cosa succede Altri 6.127 E andiamo ad assorbire Assorbire circa 1.600 Quindi direi uno scambio piuttosto vantaggioso La corazzata a cui vorrei attirare la vostra attenzione fin da subito La corazzata montana Per quale motivo non ci dà una mano su questo settore Poteva e doveva affrontare sia la Bismarck che la Zuma Cosa che invece non sta facendo perché decide di andare nel settore D7 Non lo so per quale assurdo motivo Potevamo sfondare molto bene Anche perché abbiamo il cacciador pediniere Giapponese che di certo Come possiamo vedere anche dalla sua posizione Non sta avendo paura E quindi sta avanzando piuttosto coraggiosamente Continuiamo a sparare tutto quello che abbiamo sulla Zuma Abbiamo ancora le HE purtroppo Anche le AP Avrebbero fatto sicuramente qualcosa di interessante Però ripeto Abbiamo le HE E quindi spariamo quelle lì Andiamo ancora una volta ad assorbire 1683 Contro l'incrociatore nemico Che subisce l'ennesimo incendio da parte nostra Una nave la Zao che si basa fondamentalmente sul movimento E sui cannoni che fanno davvero molto molto male Andiamo a subire 6800 Purtroppo fanno malissimo anche i razzi nemici Abbiamo buttato giù un po' di aerei Il caggero nemico viene spottato dalla mia IDRO Però nessuno va a sparare al cacciador pediniere Soprattutto quella montana che clicco da un'ora per dire Spara al cacciador pediniere E invece no Ci sta ignorando del tutto Se fosse stato più attento Sicuramente il cacciador pediniere giapponese sarebbe stato distrutto Arrivano altri bombardieri nemici Bombardieri che fanno malissimo alla nostra nave Purtroppo non abbiamo un'antiaerea adatta per contrastare questa minaccia Non abbiamo nulla per la verità per contrastare Tranne il rinforzo del settore Altri 6700 sulla Zuma con le HE Un altro incendio va bene Il cacciador pediniere va a timbrare il caggero La nostra antiaerea qui sta sparando all'impazzata da un bel po' Abbiamo distrutto già 4 aerei Ecco appunto 10901 Guardate quanti bombardieri abbiamo sopra la nostra testa Vorrei attirare la vostra attenzione Sono tantissimi E sono entrambe le portaerei come potete vedere Sia il livello 10 sia il livello 8 Ce l'hanno con me Questa cosa si è capita E continuano a bombardarmi Una partita ragazzi davvero Difficile per quanto mi riguarda Perché siamo sotto il fuoco nemico Qui la Yamato ci va a colpire A sparare Infatti qui facciamo una virata immediata Per cercare di evitare i colpi Fortunatamente ce la facciamo Tra l'altro una cosa anche abbastanza importante Che è come vedete Ci sono due segnalini in alto a destra Che stanno ad indicare gli aerei distrutti Dei miei fighters che faccio decollare E della mia antiaerea Non dovete confonderli Perché come vedete ripeto Sono due segnalini ben distinti Al momento abbiamo messo segno 60.000 danni Sotto una pioggia di bombardieri Incessante Nel frattempo Il settore di Alfa Continua ad avanzare Sembrerebbe Senza troppi problemi Però qui dobbiamo assolutamente Tornare indietro Perché veramente Stiamo subendo fin troppi colpi Qui la Aljova purtroppo Ha un tiro abbastanza semplice Su di noi Però non possiamo fare assolutamente nulla Dobbiamo chiudere questa virata Siamo rimasti con 10.000 11.000 Stiamo recuperando Aspetta perché ha sparato Però ci siamo fermati Andiamo ad assorbire 1.350 Non chiedetemi come Ma sono Ancora vivo Nonostante il fuoco incesto Continuano a cadere Bombardieri Bombe ovunque Io non ci voglio credere Sono 7 minuti Che siamo sotto L'attacco Dei bombardieri Dei razzi nemici Di tutte e due Le portaerei Quindi veramente Ce l'avevano con me In questa partita Non so per quale motivo Tra l'altro Una cosa che Che ho notato Poi a fine partita La nostra portaerei Di livello 10 È AFK Veramente Cioè io sono sotto il fuoco Nemico E la nostra portaerei È anche AFK Cioè della serie Peggio di così Non può Nella maniera più assoluta Andare Cosa possiamo fare Ho chiesto ancora una volta L'aiuto Della montana Anzi qui Dico Fate un report Alla montana Perché 10 minuti fa Avevo già detto Dammi una mano Su questo settore Dammi una mano Lui invece Ha fatto tutt'altro Andiamo a fare 2.805 Quindi giocata male Il report In quel senso Arrivano nuovamente Razzi E proviamo qui A difendere la base Soprattutto l'incendio Sulla Yamato Ok arriva l'incendio Abbiamo fatto una kill Al momento Guarda niente Ce l'ha con me Ce l'ha con me La kill mi viene Letteralmente elevata Da sotto al naso Cioè nonostante La sento mia Diciamo Siamo stati spinti Ormai Sempre più indietro Rispetto al settore Di Charlie Facciamo uscire Il nostro aereo Per una maggiore Difesa contrae Si spera Però vorrei far notare Che Oltre al caccia Torpediniere Che è stato distrutto Poco fa Nessuno Mi ha dato Una mano Su questo lato Quindi Ho tenuto il lato Da solo Per circa 10 minuti Con qualsiasi Perché come detto La montana Ci ha lasciato Ennesimo incendio Sulla Zuma Ennesimi Bombardieri Razzi Sud di noi Altri 8000 Quanto soffre Le HE Però la Zuma Soffre davvero Tantissimo Le HE Vediamo Vediamo lui Cosa ci risponde 2595 Il settore Di alfa Sta continuando A sfondare Molto bene Ennesimo incendio Ennesima base Difesa Siamo saliti A 117000 Danni Vediamo se riusciamo In qualche modo A portare a casa La kill Arrivano Ancora Una volta I bombardieri E portiamo A casa Piromane Ragazzi Io penso Che più di così Sul settore Di Charlie Non si può fare Nella maniera Più assoluta Continuano a cadere Aerei Che la nostra Antiaerea Punisce In maniera Molto precisa Abbiamo un vantaggio Davvero Mostruoso Siamo 9 Contro 6 Se vedo bene Però abbiamo La porta aerei A FK Cosa può andare storto In questa partita Cosa potrebbe mai andare storto Abbiamo Dato veramente Tutto sul settore Di Charlie Possiamo recuperare Solo una volta La vita Adesso a questo punto Dobbiamo Cappare Charlie Per aumentare Il nostro vantaggio La porta aerei No Non è ancora Contenta Di quello che ha fatto Fino a questo momento Infatti ci manda Contro L'erosi Duranti Giapponesi Il nostro Fighters Purtroppo Non è ancora Operativo 6 km E' incredibile Io Quando stavo giocando Non ci volevo credere Perché ho detto E' mai possibile Che questo qua Tutti e due Poi ce l'ha Ce l'hanno solo Ed esclusivamente Con me Cerchiamo di evitare I siluri In maniera molto Precisa Via I nostri aerei La Kitakaze Viene timbrata Dalla Yu e Yang Più La porta aerei Anzi Tutti e due Venivano contro di me Più pensavo Non ve la devo Dar vinta Devo cercare Di resistere Il più a lungo Possibile Per permettere Alla squadra Di avanzare Da alfa Ormai sapevo Che la porta aerei Ce l'aveva con me Infatti lo scrivo Anche in chat Quindi ho pensato Vabbè dai Loro arrivano Da alfa Almeno Non incontreranno Il problema Delle porta aerei Perché lo sto già Affrontando io Da 12 minuti Ragazzi Come sempre Vi invito Ad iscrivervi Al canale Di lasciare Un bel mi piace Se è possibile Una bella condivisione Per arrivare Quanto prima Ai 6000 iscritti Se il gioco Vi interessa Trovate nella descrizione Del video Il link Per iscrivervi Se utilizzate Il mio link Ovviamente Mi fate un favore Altri siluri Mandati a vuoto Ennesimi siluri Mandati a vuoto Non riusciamo Però a cappare Il settore di Charlie Perché dobbiamo Più che altro Evitare tutti i siluri Arriva ancora una volta Il livello 8 Porta aerei Veramente Non lo so Forse hanno capito Che era un giocatore Pericoloso Sul settore di Charlie Non ho Non so sinceramente Cosa pensare Non lo so veramente Stavo Sto pensando Però non trovo risposta Stiamo finalmente arrivati Dentro il settore Di Charlie Proviamo a cappare Utilizziamo la ricerca Idrofonica Per eventuali siluri Della Minotaur Che viene timbrata Dalle nostre HE Abbiamo subito Un danno critico Stiamo recuperando Ancora un po' Di punti vita Vediamo se riusciamo A cappare La base No niente Niente Continuano a cadere Pezzi Sopra la nostra testa Non c'è modo Di Di interrompere Questo assalto Che dura ormai Da diversi minuti Siamo arrivati A 32 aerei Distrutti Davvero tantissimi Ancora una volta Razzi E qui andiamo A Subito Levare l'incendio E viene spottata La porta aerei Nemica Cerchiamo in qualche modo Di gestire Anche questa Minaccia A 13 chilometri La nostra squadra Continua Ad avanzare Molto lentamente Anche dal settore Di alfa Vediamo un pochino Se riusciamo A dare un po' Di fastidio Arrivano le aerosiluranti Qui Mi sa che ci va A beccare E finisce la partita No Ancora no Vendo carissima La pelle Andiamo ad evitare Ancora un siluro Siamo 3 6 7 8 Come non detto Distrutto Contro due Cacciador penieri E due portaerei Vediamo Ancora siluro In arrivo Non ci voglio Credere E andiamo Ad evitarli Ancora una volta No No Invece no Evitiamo il siluro Però poi arriva La bomba Della portaerei Che ci va A distruggere Io ragazzi Un accanimento Così Feroce Nei miei confronti Di due portaerei Non l'avevo mai visto Veramente qualcosa Di incredibile La nostra squadra Comunque Sta avendo Tutto il tempo Per avanzare Verso il settore Di Charlie E poi lo scrivo In chat E' incredibile Come io abbia Combattuto Completamente Da solo Sul settore Di Charlie Contro queste due Portaerei Super Arrabbiate Adesso ragazzi Velocizziamo Un pochino La partita Per vedere Effettivamente Come andrà Come andrà A finire Velocizziamo La partita Mancano 10 secondi Alla fine Della partita Noi abbiamo 829 punti La loro portaerei Di livello 8 è rimasta Con meno Di 900 punti Vita Ed è stata Completamente Ignorata Per distruggere La portaerei Di livello 10 Non trovo Il senso A tutto questo Potevamo Perdere Questa partita Non ci voglio Credere Ragazzi Video terminato Come sempre Vi ringrazio Per i like Commenti E le visualizzazioni E noi come sempre Ci vediamo alla prossima Ciao Ciao